La stagione degli azzurri e se volo dire al prossimo? Quanto è stato meglio rincontrare i tuoi compagni di quell'avventura? Molto, poi abbiamo un grande rapporto, ci sentiamo, ci vediamo quando è possibile, oggi siamo degli amici, siamo venuti per questo grande progetto di aiutare questi ragazzi, quindi è bello unire le due cose, l'amicizia con la beneficenza. Quali dei tre titolarissimi del Napoli ti rivedi a me da capo? A me piaceva gli inserimenti, quindi dico che secondo me Amsic è una mezzana, ci ho giocato anche tante volte che mi piace e mi rivedo in lui con caratteristiche un po' differenti, grazie.